Di Guy de Maupassant, Bellamy, voce di Lorenzo Pieri, prima parte, capitolo terzo Quando Georges Durois si ritrovò in strada fu incerto sul da farsi, aveva voglia di correre, di sognare, di camminare senza meta pensando al futuro e respirando l'aria mite della notte, ma lo preoccupava il pensiero della serie di articoli che gli aveva chiesto il vecchio Walter e decise di rientrare subito a casa per mettersi al lavoro. Si avviò di buon passo, raggiunse il bulvare esterno e lo seguì fino a Rue Bursault dove abitava. Lo stabile, alto sei piani, era popolato da venti modeste famiglie operaie e borghesi, mentre saliva le scale, rischiarando con qualche cerino i gradini sporchi e ingombri di pezzi di carta, mozziconi di sigarette e rifiuti, provò una nauseante sensazione di disgusto e un bisogno impellente di andarsene via da quel posto, di alloggiare come i ricchi in case pulite, piene di tappeti. Un opprimente fetore di cibo, di fogna e di umanità, un odore stagnante di sudiciume e di muri vecchi che nessuna corrente d'aria avrebbe potuto spazzare via, riempiva l'edificio da cima a fondo. La camera del giovane, al quinto piano, si affacciava come su un abisso profondo, sull'immensa trincea della ferrovia dell'Ovest, proprio sopra l'imboccatura del tunnel, vicino alla stazione di Batignolle. Duois aprì la finestra e si appoggiò alla ringhiera di ferro arrugginito. Sotto di lui, sul fondo del buio fossato, tre segnali rossi immobili sembravano grossi occhi animali e più in là se ne scorgevano altri e altri ancora, ancora più lontani. In ogni momento, fischi prolungati o brevi attraversavano la notte, alcuni vicini, altri appena percepibili, che venivano da laggiù, dalla parte di Asniere, avevano modulazioni come di voci che si chiamano. Uno di questi si avvicinò, lanciando di continuo il suo grido lamentoso sempre più forte e poco dopo apparve una grande luce gialla irrompendo fragorosa e Duois guardò il lungo rosario dei vagoni inabissarsi nel tunnel. Poi si disse «Su, al lavoro!» Posò il lume sul tavolo ma quando stava per mettersi a scrivere si accorse di avere in casa solo un blocco di carta da lettere. Pazienza avrebbe usato quei fogli aprendoli in tutta la loro larghezza. Immerse la penna nell'inchiostro e scrisse in testa al primo foglio con la sua migliore grafia «Ricordi di un cacciatore d'Africa». Poi cercò l'inizio della prima frase. Se ne stava con la fronte nella mano, gli occhi fissi sul quadrato bianco dispiegato davanti a sé. Che poteva mai dire? Adesso non ricordava più nulla di quanto aveva raccontato poco prima. Non un aneddoto. Non un fatto. Niente. All'improvviso gli venne in mente «Devo cominciare dalla partenza». Scrisse «Era il 1874, verso la metà di maggio, quando la Francia, stremata, si stava riposando dopo le catastrofi dell'anno terribile». Di colpo si bloccò non sapendo come andare avanti con il seguito, l'imbarco, il viaggio, le prime emozioni. Dopo dieci minuti di riflessione decise di rinviare all'indomani la parte introduttiva, iniziando subito con una descrizione di Algeri. E scrisse sul foglio «Algeri è una città tutta bianca», senza riuscire a scrivere altro. rivedeva nella sua memoria la bella città luminosa di gradare dall'alto del monte fino al mare, come una cascata di case piatte, ma non trovava le parole per esprimere quello che aveva visto e aveva provato. Dopo un grande sforzo, aggiunse, «è abitata in parte da Arabi». Poi gettò la penna sul tavolo e si alzò. Sul lettuccio di ferro, dove la forma del suo corpo aveva disegnato un abballamento, scorse i vestiti di tutti i giorni ammucchiati alla rinfusa, vuoti, logori, flosci, squalli di comecenci d'obitorio. E sopra una sedia di paglia il suo unico cappello, sembrava rovesciato come per ricevere l'elemosina. Sulle pareti, tappezzate di carta grigia a mazzolini azzurri, il numero delle macchie eguagliava a quello dei fiori. Macchie antiche, sospette, di origine indefinibile, insetti schiacciati o gocce d'olio, ditate unte di pomata o schiuma di sapone schizzata dalla bacinella durante i lavacri. Tutto questo sapeva di vergognosa miseria, la miseria delle camere d'affitto ammobiliate di Parigi e provò un senso di esasperata ribellione contro la povertà della sua vita. Si disse che doveva uscire da quella situazione, subito, che fin dall'indomani doveva farla finita con quell'esistenza da pezzente. Ripreso di colpo da una gran voglia di lavorare, si sedette di nuovo al tavolino e ricominciò a cercare frasi per descrivere bene la fisionomia strana e affascinante di Algeri, quell'anticamera dell'Africa misteriosa e profonda, l'Africa degli arabi erranti e dei negri sconosciuti, l'Africa inesplorata e tentatrice di cui talvolta ci vengono mostrati nei giardini pubblici gli animali inverosimili che sembrano creati apposta per le favole, gli struzzi, questi polli stravaganti, le gazzelle, queste capre divine, le giraffe sorprendenti e grottesche, i cammelli dall'aria seriosa, i mostruosi, i popotami, i rinoceronti informi e i gorilla, spaventosi fratelli dell'uomo. Sentiva vagamente affiorare delle idee, forse avrebbe saputo esprimerle a parole, ma non riusciva a metterle sulla carta e poiché quel senso di impotenza lo metteva troppo in agitazione, si alzò di nuovo con le mani bagnate di sudore e il sangue che gli pulsava alle tempie. Poi lo sguardo gli cadde sul conto della lavandaia che il portinaio gli aveva portato quella sera stessa e fu preso di colpo dalla disperazione più nera. Tutta la sua gioia sparì in un attimo, con la fiducia in sé stesso e la speranza nel futuro. Era finita, tutto era finito, non avrebbe combinato nulla, non sarebbe stato nessuno, si sentiva a vuoto, incapace, inutile, condannato. E tornò ad appoggiarsi alla ringhiera della finestra proprio mentre un treno usciva dal tunnel con un rumore improvviso e violento. Stava correndo laggiù verso il mare attraverso campagne e pianure e il ricordo dei genitori gli provocò una fitta al cuore. Quel convoglio sarebbe passato accanto a loro a poche leghe soltanto dalla loro casa. La rivide quella casetta in alto sul costone che domina Rouen e l'immensa vallata della Senna all'ingresso del villaggio di Cantelux. Suo padre e sua madre avevano una piccola osteria, una bettola dove i borghesi dei sobborghi venivano a mangiare la domenica. Alla Bellevue avevano voluto fare di loro figlio un signore e l'avevano messo in collegio. Finiti gli studi e bocciato alla licenza liceale era partito per il servizio militare con l'intenzione di diventare ufficiale colonnello generale ma disgustato dalla vita militare ben prima che scadessero i cinque anni di ferma aveva cominciato a sognare di fare fortuna a Parigi. Vi si era trasferito subito dopo il congedo nonostante le preghiere del padre e della madre che ormai svanito il loro sogno avrebbero voluto tenerselo a casa ma era lui adesso a nutrire speranze per il suo futuro e già intravedeva il trionfo grazie ad eventi ancora confusi nella sua mente ma che certamente avrebbe saputo provocare e assecondare. Al reggimento aveva avuto qualche successo da caserma facili avventure galanti e perfino qualche conquista in un ambiente più elevato. Aveva sedotto la figlia di un esattore che voleva abbandonare tutto per seguirlo e la moglie di un avvocato che aveva tentato di annegarsi per la disperazione di essere stata lasciata. I suoi commilitoni dicevano di lui è un furbastro un volpone uno che se la cava sempre e infatti si era ripromesso di essere davvero un furbastro un volpone uno che sa cavarsela sempre. La sua nativa coscienza di normanno sciupata dalla pratica quotidiana della vita di guarnigione corrotta dagli esempi di ruberie in Africa di profitti illeciti di frodi sospette e inoltre sferzata dalle idee d'onore che circolano nell'esercito dalle bravate militari dai sentimenti patriottici dalle storielle di eroismo che si raccontano tra sottofficiali e dalla vanagloria del mestiere stesso era diventata una specie di scatola a triplice fondo in cui si trovava di tutto ma il desiderio di arrivare vi regnava sovrano senza rendersene conto si era rimesso a fantasticare come faceva ogni sera si immaginava una magnifica storia d'amore che di colpo avrebbe tradotto in realtà le sue speranze sposava la figlia di un banchiere o di un ricco signore incontrata per strada e conquistata a prima vista il fischio stridente di una locomotiva che sbucata tutta sola dal tunnel come un grosso coniglio dalla sua tana e correndo a tutto vapore sulle rotaie filava verso il deposito delle macchine dove andava a riposare lo risvegliò dal suo sogno allora riafferrato dalla speranza confusa e gioiosa che continuava a suggestionare la sua mente lanciò a caso un bacio nella notte un bacio d'amore verso l'immagine della donna attesa un bacio di desiderio verso l'agognata fortuna poi chiuse la finestra e cominciò a spogliarsi mormorando bah domattina andrà meglio stasera non ho la mente libera e poi forse ho anche bevuto un po' troppo non si lavora bene in queste condizioni si mise a letto spense il lume e si addormentò quasi subito si svegliò presto come ci si sveglia nei giorni di viva speranza o di ansia e saltato giù dal letto andò a spalancare la finestra per tracannare come diceva una buona tazza d'aria fresca di fronte sull'altro lato del largo fossato della ferrovia le case di rue de Rome scintillanti nella luce del sole nascente sembravano dipinte di un bianco chiarore sulla destra in lontananza si scorgevano i colli d'argentoie le alture di Saint-Noix e i mulini d'augement in una foschia bluastra e leggera simile a un velo sottile ondeggiante e trasparente teso sull'orizzonte di uva rimase per qualche minuto a guardare la campagna lontana e mormorò si starebbe maledettamente bene laggiù in una giornata come questa poi pensò che doveva mettersi al lavoro e subito oltre che mandare in ufficio per dieci soldi di mancia il figlio della portinaia ad avvisare che era malato si sedette al tavolo intinse la penna nel calamaio appoggiò la fronte ad una mano e cercò delle idee in vano non gli veniva in mente nulla ma non si scoraggiò pensò bah non sono abituato è un mestiere da imparare come tutti i mestieri bisogna che qualcuno mi aiuti le prime volte vado a trovare Forestier che in dieci minuti mi imposterà l'articolo e si vestì quando fu in strada pensò che era ancora troppo presto per presentarsi in casa dell'amico che probabilmente dormiva fino a tardi così si mise a passeggiare molto lentamente sotto gli alberi del bulvare esterno non erano ancora le nove quando raggiunse il parco Monceau umido e fresco per le innaffiature seduto su una panchina ricominciò a fantasticare davanti a lui così un giovanotto molto elegante andava avanti e indietro certamente in attesa di una donna che infatti apparve velata e a passo veloce dopo una breve stretta di mano se ne andarono a braccetto un tumultuoso bisogno d'amore irruppe nel cuore di Dugo un bisogno di amori raffinati profumati delicati si alzò e si rimise in cammino pensando a Forestier lui sì che era fortunato arrivò davanti al suo portone nel momento in cui l'amico stava uscendo tu qui a quest'ora che cosa volevi Dugo turbato per averlo incontrato proprio mentre se ne stava andando balbettò è che è che proprio non riesco a mettere insieme il mio articolo sai l'articolo che il signor Walter mi ha chiesto sull'Algeria non c'è da stupirsi non avendo mai scritto una riga in vita mia serve della pratica come in ogni cosa imparerò presto ne sono sicuro ma per cominciare non so da che parte rifarmi le idee le ho le ho tutte ma non riesco a esprimerle si interruppe imbarazzato Forestier sorrideva malizioso conosco il problema Dugo riprese sì credo che capiti a tutti i principianti ecco sono venuto sono venuto a chiederti una mano in dieci minuti me lo imposti mi mostri come svilupparlo e mi dai una bella lezione di stile senza di te non ne cavo le gambe l'altro continuava a sorridere divertito batte sul braccio dell'ex commilitone e gli disse vai da mia moglie sistemerà la cosa bene quanto me l'ho addestrata a questo genere di lavori stamani non ho tempo altrimenti l'avrei fatto molto volentieri Dugo improvvisamente intimidito esitava non osava ma a quest'ora come posso presentarmi da lei ma certo che puoi è già alzata la troverai nel mio studio mi sta riordinando certi appunti ma l'altro si rifiutava di salire no non è possibile Forestier lo prese per le spalle lo fece girare sui tacchi e gli disse spingendolo verso le scale ma tu sciocco che non sei altro se te lo dico io di salire non vorrai costringermi a fare di nuovo tre piani di scale per presentarti e spiegare il tuo caso allora Dugo si decise grazie vado le dirò che sei stato tu a costringermi che mi hai letteralmente costretto ad andare da lei ma si non ti mangerà stai tranquillo ma soprattutto non dimenticarti di oggi alle tre oh non temere e Forestier se ne andò in gran fretta mentre Dugo cominciò a salire lentamente un gradino dopo l'altro pensando a cosa avrebbe detto e preoccupato per l'accoglienza che avrebbe ricevuto venne ad aprirgli il domestico indossava un grembiule blu e teneva una scopa in mano il signore è uscito disse precedendo la domanda Dugo insistè chieda la signora la signora focastiese può ricevermi e le dica che vengo da parte di suo marito che ho incontrato per strada poi restò in attesa l'uomo tornò aprì una porta sulla destra e annunciò la signora l'aspetta era seduta su una poltrona da ufficio in una piccola stanza le cui pareti erano completamente nascoste da libri ben allineati su scaffali di legno nero le rilegature di colori diversi rosse gialle verdi viola e blu davano una nota di allegria a quel monotono allineamento di volumi si voltò sorridente come sempre avvolta in una vestaglia bianca ornata di pizzi e gli porse la mano mostrando il braccio nudo nell'ampia apertura della manica è già qui disse poi aggiunse non è un rimprovero è solo una domanda lui balbettò oh signora io non volevo salire ma suo marito che ho incontrato qui sotto mi ha costretto a farlo sono così confuso che non oso neppure dirle perché sono qui lei indicò una sedia si sieda e mi dica teneva una penna d'oca tra due dita e la rigirava abilmente davanti a lei un grande foglio di carta scritto a metà interrotto dall'arrivo del giovane sembrava a suo agio davanti a quel tavolo dal lavoro disinvolta come in salotto intenta un'ordinaria occupazione un profumo leggero esalava dalla vestaglia la fresca fragranza della recente toilette e duro cercava di immaginare credeva di vedere il corpo giovane chiaro pieno e caldo interamente avvolto nella morbida stoffa siccome lui taceva fu lei a parlare su mi dica di che si tratta esitando lui mormorò ecco ma veramente non ho il coraggio il fatto è che ieri sera ho lavorato fino a tardi e anche stamattina molto presto per scrivere l'articolo sull'Algeria che mi ha chiesto il signor Walter e non mi viene ho stracciato tutti i miei tentativi non sono abituato a questo genere di lavoro e sono venuto per chiedere a Forestier di aiutarmi solo per questa volta lei lo interruppe ridendo di cuore felice divertita e lusingata e lui le ha detto di venire da me è gentile da parte sua sì signora mi ha detto che lei mi avrebbe tolto d'impiccio meglio di lui ma io non osavo non volevo capisce lei si alzò sarà una deliziosa collaborazione lei ha avuto un'ottima idea ecco si sieda al mio posto perché al giornale conoscono la mia calligrafia e ora imbastiremo il suo articolo un articolo con i fiocchi lui si mise a sedere prese una penna spiegò un foglio di carta davanti a sé e restò in attesa la signora Forestier rimasta in piedi osservava i suoi preparativi poi prese una sigaretta sul caminetto e l'accese non riesco a lavorare senza fumare disse vediamo che cosa vuole raccontare lui sollevò la testa stupito ma io non so sono venuto apposta per questo lei riprese ma certo ci penso io cucinerò la salsa ma mi serve la pietanza lui continuava a tacere imbarazzato alla fine disse esitante vorrei raccontare il mio viaggio dall'inizio allora lei gli si sedette davanti dall'altro lato del grande tavolo e disse guardandolo negli occhi bene per cominciare lo racconti a me solo per me capisce molto lentamente senza dimenticare nulla e io sceglierò quello che c'è da apprendere ma siccome lui non sapeva da dove cominciare si mise a interrogarlo come avrebbe fatto un prete nel confessionale ponendogli domande precise che gli ricordavano dettagli dimenticati personaggi incontrati volti appena intravisti dopo averlo costretto a parlare in questo modo per un breve quarto d'ora di colpo lo interruppe e adesso cominciamo per prima cosa facciamo finta che lei rivolga le sue impressioni a un amico il che le permetterà di dire un mucchio di sciocchezze di fare osservazioni di ogni genere di essere spontaneo e divertente se ci riusciamo cominci a scrivere caro Henry vuoi sapere cos'è l'Algeria e lo saprai non avendo nulla da fare nella capanna di fango secco che mi fa da casa ti invierò una specie di diario della mia vita giorno per giorno ora per ora talvolta sarà un po' crudo ma pazienza non sei obbligato a mostrarlo alle signore di tua conoscenza si interruppe per riaccendere la sigaretta spenta e subito il sottile stridio della penna d'oca sulla carta cessò continuiamo disse lei l'Algeria è un grande paese francese alla frontiera delle vaste terre sconosciute che si chiamano deserto Sahara Africa centrale eccetera eccetera Algeri è la porta la porta bianca e affascinante di questo strano continente ma prima bisogna arrivarci e non sono rose e fiori per tutti io come sai sono un ottimo cavallerizzo dato che alleno i cavalli del colonnello ma si può essere buon cavaliere e cattivo marinaio è il mio caso ricordi l'ufficiale medico Simretà che chiamavamo dottor Ipeca quando ci credevamo maturi per 24 ore di infermeria luogo benedetto si marcava visita se ne stava seduto su una sedia con le sue grasse cosce divaricate nei pantaloni rossi le mani sulle ginocchia le braccia ad arco con i gomiti in fuori e roteava i grossi occhi a palla mordicchiandosi i baffi bianchi ricordi la sua unica prescrizione questo soldato è affetto da un disturbo di stomaco somministrare l'emetico numero 3 secondo la mia formula 12 ore di riposo e sarà a posto era un rimedio sovrano quel lemetico sovrano e irresistibile lo buttavamo giù dato che si doveva poi sorbita la formula del dottor Ipeca ci guadagnavamo 12 ore di meritato riposo ebbene mio caro per raggiungere l'Africa bisogna assorbirsi per 40 ore un altro genere di emetico irresistibile secondo la formula della compagnia transatlantica la signora Forestier si sfregava le mani decisamente compiaciuta della sua trovata si alzò e si mise a camminare per la stanza dopo aver acceso un'altra sigaretta e dettava espirando il fumo i fili sottili che all'inizio uscivano dritti da un piccolo foro rotondo al centro delle labbra chiuse e poi si allargavano e svaporavano lasciando qua e là delle strisce grigie nell'aria una specie di nebbia trasparente una velatura simile a una ragnatela ogni tanto con un gesto della mano aperta cancellava quelle tracce leggere e più persistenti a volte le tagliava con un brusco movimento dell'indice e poi guardava con seria attenzione il dissolversi lento di due tronconi di vapore evanescente e Diu-Rouin con gli occhi alzati seguiva tutti i suoi gesti gli atteggiamenti i movimenti del corpo e del viso intenti in quel vago gioco che non le impegnava la mente ora lei stava immaginando le peripezie del viaggio tratteggiava compagni di viaggio di sua invenzione e abbozzava una storia d'amore con la moglie di un capitano di fanteria che andava a raggiungere il marito poi sedutasi interrogò Diu-Rouin sulla topografia dell'Algeria che ignorava del tutto in dieci minuti ne seppe quanto lui e dettò un breve capitolo di geografia politica e coloniale per informare il lettore e prepararlo a capire facilmente i gravi problemi che sarebbero stati affrontati negli articoli successivi poi proseguì con un'escursione nella provincia di Orano un'escursione tutta inventata in cui si parlava soprattutto di donne moresche ebree spagnole è l'unica cosa che serve per interessare davvero il pubblico diceva terminò con un soggiorno a Saida ai piedi degli altipiani e una deliziosa tresca amorosa tra il sottofficiale Georges Diu-Rouin e un'operaia spagnola impiegata nella manifattura di Alfa di Ayn el-Hajjar vi raccontava gli appuntamenti notturni sulla montagna sassosa e brulla mentre gli sciacalli le iene e i cani arabi abbaiavano latravano e ululavano tra le rocce il seguito a domani esclamò con voce gioiosa poi alzandosi ecco come si scrive un articolo mio caro signore prego firmi lui esitava su firmi allora lui si mise a ridere e scrisse in fondo alla pagina Georges Diu-Rouin lei continuava a fumare camminando per la stanza e lui continuava a guardarla non trovando le parole per ringraziarla felice di esserle accanto pieno di riconoscenza e di sensuale letizia per quella nascente intimità gli sembrava che tutto ciò che aveva intorno facesse parte di lei tutto perfino le pareti coperte di libri le sedie i mobili l'aria impregnata di odore di tabacco avevano qualcosa di particolare di buono di dolce di affascinante che da lei emanava improvvisamente gli domandò che ne pensa della mia amica la signora de Marelle fu colto di sorpresa ma la trovo la trovo molto attraente davvero sì certamente avrebbe voluto aggiungere non quanto lei ma non ebbe il coraggio lei continuò e sapesse com'è divertente originale intelligente una zingara sì una vera zingara per questo suo marito non la ama ne vede solo i difetti e non ne apprezza le qualità di Ugoa si stupì che la signora de Marelle fosse sposata eppure era del tutto naturale chiese ma come è sposata e cosa fa suo marito la signora Forestier alzò leggermente le spalle e le sopracciglia con un unico movimento pieno di significati incomprensibili oh è ispettore alle ferrovie nord sta a Parigi otto giorni al mese che sua moglie definisce il servizio obbligatorio oppure la settimana di Corve o anche la settimana santa quando la conoscerà meglio vedrà come acuta e gentile vada a trovarla uno di questi giorni di Ugoa non se ne sarebbe più andato gli sembrava di poter restare lì per sempre di essere a casa sua ma la porta si aprì senza rumore ed entrò un signore alto che non era stato annunciato il tipo vedendo un altro uomo si fermò per un attimo la signora Forestier sembrò imbarazzata poi disse con la sua voce naturale anche se un po' di rossore le era salito dalle spalle al volto entri dunque mio caro le presento un buon compagno d'armi di Charles il signore Georges Durouat futuro giornalista poi con un tono diverso il nostro migliore e più intimo amico il conte de Vaudrec i due uomini si salutarono guardandosi dritti negli occhi e subito Durouat si accomiatò non fu trattenuto balbettò qualche ringraziamento strinse la mano della giovane donna si inchinò ancora una volta davanti al nuovo venuto che manteneva un volto freddo e compassato da uomo del gran mondo e uscì turbatissimo come se avesse commesso una sciocchezza ritrovandosi in strada si sentì triste a disagio oppresso dall'oscura sensazione di una pena nascosta camminava dritto davanti a sé chiedendosi il motivo di quell'improvvisa malinconia non lo trovava ma continuava a rivedere il volto severo del conte di vodrec già un po' vecchio con i capelli grigi l'aria tranquilla e insolente di un uomo molto ricco e sicuro di sé e si rese conto che l'arrivo di quello sconosciuto spezzando un'incantevole intimità cui il suo cuore si era già abituato gli aveva provocato quel senso di freddo e di sconforto che per una parola udita una miseria intravista una minima inezia basta atturbarci l'animo e aveva anche l'impressione senza saperne il motivo che a quell'uomo fosse dispiaciuto di trovarlo lì non aveva più niente da fare fino alle tre e non era ancora mezzogiorno gli restavano in tasca sei franchi e cinquanta andò a mangiare alla trattoria di Uval poi vagò per il boulevard e appena rintoccarono alle tre salì lo scalone di rappresentanza della vie francese i fattorini seduti su un divanetto a braccia concerte erano in attesa mentre un usciere dietro una specie di piccola cattedra di scuola smistava la posta in arrivo la messa in scena era perfetta per intimorire i visitatori tutti avevano il contegno il portamento la dignità l'eleganza che si addicono all'anticamera di un grande giornale di Uval domandò il signor Walter per favore l'usciere rispose il signor direttore è in riunione se vuole sedersi e indicò la sala d'aspetto già piena di gente vi si vedevano uomini di aspetto serioso decorati importanti e altri molto sciatti con la camicia nascosta sotto la redingota abbottonata fino al collo e il petto costellato di macchie come i profili dei continenti e dei mari sulle carte geografiche c'erano tre donne in mezzo a quella gente una di loro era graziosa sorridente tutta agghindata e aveva l'aria di essere una cocotte la sua vicina una maschera tragica rugosa vestita in modo austero aveva quel non so che di estenuato e di artefatto che hanno in genere le ex attrici una sorta di falsa giovinezza svanita come un profumo d'amore ormai rancido la terza donna vestita a lutto se ne stava in un angolo in posa di vedova sconsolata diugois pensò che fosse venuta a chiedere l'elemosina erano passati più di venti minuti e nessuno veniva fatto entrare allora diugois ebbe un'idea e tornando dal luciere gli disse il signor Walter mi ha fissato un appuntamento per le tre comunque può vedere se il mio amico il signor Forestier è qui allora lo fecero passare per un lungo corridoio che lo portò in una grande sala dove quattro uomini stavano scrivendo su un largo tavolo verde Forestier in piedi davanti al caminetto fumava una sigaretta e giocava a bibocchè era molto abile in questo gioco e a ogni lancio infilzava l'enorme palla di bosso giallo sul piccolo puntale di legno contava 22 23 24 25 duvò esclamò 26 e l'amico lo guardò senza interrompere il movimento regolare del braccio a eccoti qua ieri ho infilato 57 colpi di seguito qui c'è solo Saint-Poton che riesca a battermi hai visto il padrone non c'è nulla di più comico che guardare quel vecchio babbeo di Norbert mentre gioca a bilbochè spalanca la bocca come se volesse inghiottire la palla uno dei redattori girò la testa verso di lui sai Forestier ce n'è uno stupendo in vendita di legno delle isole dicono che sia appartenuto alla regina di Spagna vogliono 60 franchi non è caro Forestier domandò dove e avendo mancato il 37esimo lancio aprì un armadio dove Duguay scorse una ventina di stupendi bilbochè allineati e numerati come pezzi da collezione poi rimesso al suo posto il giocattolo ripetè dove si trova quel gioiello il giornalista rispose da uno che vende i biglietti del vaudeville se ti interessa domani te lo porto d'accordo se è veramente bello lo prendo i bilbochè non sono mai troppi poi rivolgendosi a Duguay vieni con me ti porto io dal padrone altrimenti potresti restare qui a muffire fino alle 7 di sera riattraversarono la sala d'aspetto dove le stesse persone erano ancora ferme agli stessi posti appena apparve Forestier la giovane donna e la vecchia attrice si alzarono di scatto e gli andarono incontro lui le condusse una dopo l'altra di fronte al vano della finestra e nonostante avessero preso la precauzione di parlare a bassa voce Duguay notò che dava del tu a entrambe poi spinte due porte imbottite entrarono nella stanza del direttore la riunione che durava da un'ora era una partita di Ecarte con alcuni di quei signori dal cappello a tesa piatta che Duguay aveva notato la sera prima il signor Walter teneva strette in mano le carte e giocava con grande concentrazione e movimenti guardinghi mentre il suo avversario sbatteva alzava maneggiava i leggeri cartoncini colorati con la disinvoltura la destrezza e l'eleganza del giocatore consumato Nobert Devaran seduto sulla poltrona del direttore stava scrivendo un articolo e Jacques Rival disteso su un divano fumava un sigaro a occhi chiusi nella stanza c'era un forte odore di chiuso di cuoio delle imbottiture di tabacco stantio e di tipografia si sentiva quell'odore tipico delle redazioni che tutti i giornalisti conoscono bene sul tavolo di legno nero intarsiato di rame giaceva una quantità incredibile di carte lettere cartoline giornali riviste fatture di fornitori stampati di ogni genere Forestier strinse la mano ai cronisti che in piedi dietro i giocatori scommettevano su di loro e senza dire una parola si mise a seguire la partita poi dopo che papà Walter ebbe vinto gli si rivolse ecco il mio amico Dugois il direttore squadrò bruscamente il giovane con la solita occhiata al di sopra degli occhiali e domandò mi ha portato l'articolo andrebbe benissimo oggi insieme con la discussione sul caso Morel Dugois tolse dalla tasca i fogli di carta piegati in quattro ecco signore il direttore sembra molto soddisfatto e sorridendo disse ottimo ottimo è stato di parola gli da un'occhiata a lei Forestier ma Forestier si affrettò a rispondere non ce n'è bisogno signor Walter l'ho fatto insieme a lui per insegnargli il mestiere è molto buono e il direttore che già stava prendendo le carte da un tipo alto e magro un deputato del centro-sinistra aggiunse con indifferenza benissimo allora Forestier non gli lasciò cominciare la nuova partita e chinandosi gli bisbigliò all'orecchio si ricorda che mi ha promesso di assumere Dugois per rimpiazzare Marambeau gli faccio le stesse condizioni sì perfetto e prendendo l'amico per un braccio il giornalista lo portò via con sé mentre Walter riprendeva a giocare Norbert de Varin non aveva alzato la testa sembrava che non avesse visto o riconosciuto Dugois Jacques Rival invece gli aveva stretto la mano con l'energia esibita del buon collega che ti assicura la sua collaborazione in caso di necessità riattraversarono la sala d'aspetto e siccome tutti li guardavano Forestier disse alla più giovane delle donne con voce abbastanza alta per essere sentito dagli altri il direttore la riceverà tra poco in questo momento è in riunione con due membri della commissione per il bilancio poi affrettò il passo con l'aria dell'uomo importante che non ha tempo da perdere come se dovesse precipitarsi a ridigere un dispaccio della massima gravità appena rientrati nella sala della redazione Forestier andò subito a riprendersi il suo bilbocchè e rimettendosi a giocare e interrompendo le frasi per contare i lanci riusciti disse a Durois è fatta verrai qui tutti i giorni alle tre e ti dirò le commissioni e le visite da fare nel pomeriggio la sera e al mattino uno innanzitutto ti darò una lettera di presentazione per il capo dell'ufficio di gabinetto della questura due che ti metterà in contatto con uno dei tuoi impiegati e te la vedrai con lui per tutte le notizie importanti tre per i dettagli ti rivolgerai a Saint-Poton che è al corrente di tutto quattro e lo vedrai tra poco o domani dovrai soprattutto imparare a far cantare la gente da cui ti manderò cinque e a infilarti dappertutto nonostante le porte chiuse sei prenderai per questo duecento franchi al mese di stipendio fisso più due soldi a riga per le notiziole interessanti che avrai personalmente recuperato sette più altri due soldi a riga per gli articoli che ti saranno commissionati di argomento vario otto poi si concentrò esclusivamente sul gioco e continuò a contare lentamente nove dieci undici dodici tredici mancò il quattordicesimo lancio e imprecò Cristo d'un tredici mi porta sempre a questo numero fottuto sarà certamente un tredici il giorno in cui morirò uno dei redattori che aveva finito il suo lavoro prese a sua volta un bilbucché dall'armadio era un omuncolo che sembrava un bambino nonostante i trentacinque anni d'età molti altri giornalisti che erano appena entrati andarono a loro volta uno dopo l'altro a prendersi il proprio giocattolo e furono presto in sei fianco a fianco con le spalle al muro a lanciare in aria con un movimento simile regolare le palle rosse gialle o nere a seconda della qualità del legno essendo cominciata una gara i due redattori che stavano ancora lavorando si alzarono per fare da arbitri vinse Forestier per undici punti allora l'omuncolo dall'aria infantile che aveva perso suonò per chiamare il fattorino e ordinò nove birre e si rimisero a giocare nell'attesa che arrivasse da bere di duro beve un bicchiere di birra con i nuovi colleghi poi domandò al suo amico che devo fare l'altro rispose oggi non ho niente per te puoi andare se vuoi e il nostro il nostro articolo sarà passato stasera sì ma non preoccuparti correggerò io le bozze scrivi il seguito per domani e torna qui alle tre come oggi e diugo dopo aver stretto tutte quelle mani senza neppure sapere il nome dei loro proprietari ridiscese la bella scalinata con il cuore traboccante di gioia e uforico e raggiante che tav�� riccio giudice